Buongiorno, oggi siamo a Cassino, in un appartamento al centro di Cassino. Siamo adesso all'interno della prima stanza che è l'ingresso, vediamo adesso quello che è la sala e proseguiamo dopo per quello che è il corridoio e quindi accesso alle varie camere. Se volete potete sempre fare un fermo immagine del video in maniera tale da poter apprezzare quelli che sono gli interi spazi e gli angoli di ogni ambiente che andiamo a visitare. Questa è la sala, vediamo l'accesso al balcone e quindi sulla strada principale. Vediamo che è composta da un ampio spazio da cui si accede da due porte, la porta all'ingresso e la porta diretta alla zona del corridoio e quindi a tutto quello che è la zona notte. Vediamo adesso la cucina che ha anche l'angolo già risposto per i mobili e quindi apprezziamo pure quello che è il balconcino di collegamento alla zona esterna e alla vegetazione che c'è fuori rispetto allo sfogo che serve appunto a una cucina, ritorniamo sul corridoio e ci spostiamo nella zona per così dire zona notte e vediamo che sono una, due, tre, tre camere da letto, c'è uno sgabuzzino che è sempre importante e ci sono due bagnetti. Accediamo adesso alla prima in sequenza camera da letto, vediamo sempre gli infissi in legno e gli impianti, gli elementi radianti in ghisa, pavimentazione in marmittoni del tempo e in tonaci civili. Passiamo poi alla di fronte camera, prima camera abbiamo il bagno che è composto da lavandino, basca da bagno, tazza, bidet e eventualmente anche uno spazio per una, eventualmente predisponendola una lavatrice. Torniamo quindi indietro e abbiamo, lo vedremo dopo le altre camere da letto, l'importante è notare la presenza del doppio bagno e anche il secondo bagno è abbastanza fruibile perché ha un lavandino, una tazza e una doccia, oltre a un impianto di riscaldamento e quindi una ventola di aspirazione che vedo lì in alto e quindi abbiamo questo secondo bagno che è abbastanza fornito di accessori. Abbiamo quest'altra camera che in sequenza sarebbe la terza, la terza cameretta che accede sempre sulla zona verde di un giardino che sta qui retrostante, usciamo fuori, ritorniamo sul disimpegno, abbiamo quindi questo sgabuzzino che collega la parte terminale del corridoio quindi agli antipodi dell'ingresso e abbiamo anche la seconda camera da letto di cui è composto questo appartamento. Io vi consiglio sempre di guardare tutti i video della playlist che sono all'interno del canale anche YouTube dal quale stiamo anche trasmettendo, quindi per riepilogare abbiamo un ampio ingresso, un corridoio che collega tutto l'ambiente, la sala, abbiamo quindi un prima, seconda, terza, camera da letto, sgabuzzino, un disimpegno dal quale possiamo fruire del secondo e quindi anche del primo bagno e vicino all'ingresso ben collegato con la sala vediamo anche la cucina e lo spazio di luce che attraversa dagli entrambi i lati quella che è tutta la luce e la luminosità e la ventilazione che collega la sala con la cucina. Da cassino quindi da questo appartamento in zona centrale è tutto, se volete rivedere ci sono i vari singoli pezzi delle varie stanze o se volete rivedere il video lo potete fermare e guardare in tutti gli angoli. Io vi ringrazio con l'attenzione vi auguro buona giornata. Ciao